Venerdì 27 maggio 2022, diciannovesima tappa del Giro d'Italia Marano Lagunare, santuario di Castelmonte, 177 chilometri per 3230 metri di dislivello. Tappa molto veloce all'inizio caratterizzata dalle salite alle grotte di Villanova, di Passo Tanamea, di Kolovrat in Slovenia e quella finale per raggiungere il santuario di Castelmonte. Sono cinque corridori in fuga che riusciranno a tagliare il traguardo senza farsi raggiungere dal gruppo. Si tratta di Cohen Bauman, Mauro Schmid, Alessandro Tonelli, Attila Walter ed Andrea Vendrame, giunti al traguardo in quest'ordine dopo 4 ore, 32 minuti e 55 secondi di gara. Qualche polemica per una curva a gomito a 70 metri dal traguardo. In classifica generale è sempre primo Richard Carapaz con il tempo complessivo di 81 ore, 18 minuti e 12 secondi, seguito a 3 secondi da Jay Hindley, ad 1 minuto e 5 secondi da Mikel Landa, a 5 minuti e 53 secondi da Vincenzo Nibali e a 6 minuti e 22 secondi da Pejo Bilbao. Maglia rosa a Carapaz, ciclamino a De Mar, azzurra per Bauman e bianca per Pedro Lopez. Prossima tappa, la penultima, la numero 20, domani 28 maggio 2022. Belluno, Marmolada, Passo Fedaia, 168 chilometri per 4.490 metri di dislivello. Bene, grazie per avermi seguito anche in questo video. Ti invito ad iscriverti al canale per non perderti le prossime notizie e a seguirmi sui social. Trovi tutti i riferimenti in descrizione. Un saluto sportivo da Lucoral.